Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il piano sociosanitario regionale il vicepresidente della Commissione Sanità e relatore del provvedimento Roberto Anelli è in collegamento con noi. Anzitutto come si è arrivati a questo piano sociosanitario? Questo piano sociosanitario parte dalla fine 2023 quando la Giunta ha fatto fare a una serie di esperti del settore un'analisi dello stato di fatto e anche un'analisi di quello che potrebbe essere la sanità lombarda tra 20-30 anni. Quindi da questa analisi emerge ovviamente che il sistema sociosanitario lombardo da qui ai prossimi 20-30 anni sarà un sistema se non si pongono delle correzioni dove ci sarà un incremento notevole delle persone anziane con patologie croniche dove ci sarà un aumento di spesa non indifferente, si parla di 700-800 milioni in più rispetto agli attuali. Dopodiché questo piano è passato alla Commissione terza, quindi alla Commissione Sanità, oltre che da una parte consultiva alla Commissione nuova, non alla Commissione sociale. In questi otto mesi noi abbiamo ascoltato parecchi portatori di interesse, circa 110 se non vado errato, i quali tutti hanno portato delle loro osservazioni e quindi il dibattito nella sede consigliare è stato un dibattito che devo dire molto probabilmente per la prima volta sereno, anche perché tutti hanno collaborato sia dalle minoranze sia dalla maggioranza. e quindi arrivando a poi quello che è stato il piano sociosanitario regionale che è andato in aula, innanzitutto si è pensato che per far sì che queste persone anziane da qui ai prossimi anni non arrivassero a cronicizzarsi e quindi in qualche modo ad ammalarsi sempre di più, la parola d'ordine in questo piano era la prevenzione. La prevenzione che vuol dire prevenzione e stile di vita. Cioè noi dai dati che abbiamo ricevuto praticamente ci è stato riferito che per quanto riguarda quelli che sono gli screening gratis, cioè praticamente quegli esami che si fanno durante la vita, che sono gratis proprio per una questione di prevenzione sanitaria, il 50% non aderisce. Sta da sé che la prevenzione porta ovviamente all'individuazione della malattia in modo precoce e quindi ha una cura tanto da non cronicitarsi poi nel tempo. Quindi prevenzione e stile di vita. Stile di vita vuol dire anche una vita sana, sia dal punto di vista motorio ma sia anche da un punto di vista alimentare e questo è quello che ha caratterizzato diciamo questo piano. Abbiamo quindi la prevenzione primaria come ho detto che è una prevenzione della salute, una prevenzione secondaria che quindi è la prevenzione che porta alla cura e alla riabilitazione e poi purtroppo qualora questa prevenzione primaria e secondaria non portasse a niente c'è poi la presa in carico del paziente nelle strutture sociosanitarie. Tutto questo grazie anche a una stretta collaborazione come il piano lo evidenzia con le strutture del terzo settore perché non dimentichiamo perché per noi le strutture del terzo settore sono fondamentali nel poter portare avanti tutto il sistema sociosanitario. Quindi la vita del cittadino e quindi la salute del cittadino sarà garantita sempre di più da una vicinanza a loro. La vicinanza grazie a che cosa? Grazie a quelli nuovi modelli che sono le case di comunità e gli ospedali di comunità. Nelle case di comunità il cittadino troverà tutti quei servizi necessari senza più rivolgersi agli ospedali o ai pronti soccorsi e in caso di così pazienti la cui gravità è nettamente minore e quindi che non necessitano per forza un ricovero ospedaliero ci sarà sì un ricovero ospedaliero ma per quei malati che hanno patologie meno gravi e quindi questi andranno negli ospedali di comunità che saranno dislocati in buona parte di tutto il territorio lombardo. Ma per arrivare anche a tutto questo, quindi a quella che è la prevenzione e la prendersi in cura del malato, quindi non più curare il malato ma prendersi cura del malato, interverrà anche quello che è l'innovazione l'innovazione che per noi diventa un qualcosa di fondamentale perché grazie alla telemedicina oggi noi potremo assistere i nostri pazienti i nostri cittadini alle loro case ovviamente si parla sempre non di situazioni gravi ma grazie alla telemedicina ci sarà un contatto diretto con lo specialista ospedaliero e questi potranno in qualche modo, non in qualche modo, potranno monitorare costantemente il malato e questo grazie anche agli assistenti domiciliari assistenti domiciliari dove Regione Lombardia ha messo in campo un importo una cifra notevole per l'assuzione di questi assistenti domiciliari si parla di quasi 250 milioni i quali dovrebbero appunto garantire al cittadino una presenza non dico giornaliera ma quasi giornaliera di questo poi abbiamo nel piano sociosanitario anche un potenziamento di quelli che sono i consultori i consultori che sono diciamo così luoghi fondamentali per dare il sostegno alla famiglia alla maternità, alla genitorialità, insomma tutta una serie di apporti ai cittadini che gli permetteranno poi di essere sempre più vicini al sistema sanitario e il sistema sanitario sempre più vicino al cittadino dalla relazione è emerso anche un disagio psicologico molto importante soprattutto dopo il covid c'è stato un aumento di quelle che sono stati i disturbi mentali probabilmente dovuto a questa situazione particolare e lì quindi si è provveduto a creare quello che peraltro una legge già deliberata da Regione Lombardia lo psicologo di base che lo psicologo di base si troverà in tutte le case di comunità in modo tale da dare un supporto a queste persone l'abbiamo visto soprattutto un supporto ai giovani con problemi appunto psicologici abbastanza importante anche per quanto riguarda i disturbi alimentari che purtroppo nella fase adolescenziale stanno crescendo in modo esponenziale e quindi abbiamo ritenuto opportuno dare un servizio anche di questo tipo non dimentichiamo che dobbiamo in questo piano sociosanitario c'è anche un capitolo apposta per quanto riguarda la valorizzazione del personale e delle professioni perché diciamo diciamocene in tutta onestà se Pino adesso abbiamo tenuto con la scarsità di personale che abbiamo è perché grazie alla capacità e alla bravura di tutti i nostri operatori nel sistema sociosanitario però va da sé che questi operatori devono essere in qualche modo gratificati si troveranno le forme per gratificarli perché come sapete bene c'è un contratto nazionale Regione Lombardia potrà attuare diciamo la possibilità di avere dei benefit ma soprattutto stiamo anche cercando perché la carenza di personale non lo diciamo oggi ma è già da un po' di tempo che l'abbiamo non solo in Lombardia ma in tutta Italia si sta cercando appunto di recuperare più possibile risorse nuove sia all'interno dello Stato italiano ma anche andando a recuperare risorse nuove all'esterno e all'estero perché è ovvio che la carenza di medici porta a un ciclo di medici e di personale sociosanitario porta effettivamente a uno stress di quelli che sono gli attuali dipendenti abbiamo poi instaurato una forte collaborazione con le università sia pubbliche che private di medicina per far sì che tutti i medici abbiano costantemente una formazione professionale via via ovviamente che questo piano sociosanitario va avanti perché come sappiamo l'innovazione giorno dopo giorno produce dei nuovi sistemi operativi e quindi come tale noi dobbiamo garantire al nostro personale una formazione completa per ultimo ma non per ultimo si è fatto un focus particolare per quanto riguarda e questo devo dire grazie alla collaborazione di tutti i consiglieri della terza commissione dicevo un focus particolare per quanto riguarda la terapia del dolore che è una blanchia molto importante del nostro sistema sociosanitario abbiamo fatto un focus particolare sulle malattie rare perché voi sapete che le malattie rare non rientrano nei livelli essenziali quindi capire se Regione Lombardia ha la possibilità con sorse proprie di poter in qualche caso non in tutti ovviamente però dare assistenza gratuita anche per quelle persone che soffrono di queste situazioni ho già detto prima il servizio di psicologia e di cure primarie di cui è una figura nuova di cui Regione Lombardia è la prima regione in Italia ad attuarla e come ho detto prima la valorizzazione delle professioni sanitarie noi dobbiamo creare a queste persone un'aspettativa di progresso anche non solo in termini economici ma anche per quanto riguarda in termini di carriera quindi tutto questo è racchiuso in questo piano sociosanitario è vero che è un piano 2024-2028 ma con una proiezione molto più in là una proiezione che può durare anche oltre il 2028 e però quello che tengo a dire è che non è un piano chiuso è un piano che può essere modificato in qualunque momento a secondo delle esigenze che interverranno C'è un problema molto attuale che riguarda la sanità in Lombardia visto che di Lombardia stiamo parlando che è quello delle liste d'attesa ecco nel piano sociosanitario che cosa c'è rispetto a questo problema? Beh come dicevo in precedenza nel piano sociosanitario per quanto riguarda il problema delle liste d'attesa che è un problema di regione Lombardia ma giustamente è un problema cioè giustamente come diceva lei è un problema di tutta Italia non è solo un problema della Lombardia sul piano sociosanitario noi ci auguriamo che proprio con l'attivazione delle case di comunità alcuni esami possano essere svolti direttamente lì dopodiché c'è stata appunto dalla nuova delibera dove per ridurre quelle che sono le attuali liste d'attesa c'è l'apertura sabato e la domenica appunto degli ambulatori dove dagli ultimi dati che ho visto c'è stato uno sgravio se non sbaglio quasi del 20% però l'altra cosa che mi permetto di dire è che dobbiamo sensibilizzare ancora di più le persone perché su 100 prenotazioni 25 vanno buche cioè chi ha prenotato non va poi effettivamente a fare la visita medica quindi se ci fosse una sensibilizzazione di questo tipo capite che già il 25% di prenotazioni lo risolverebbero con questa semplice cliccata sul computer dicendo che disdice la visita specialistica una mattinata dedicata al calcio nell'aula del consiglio regionale sono state premiate le squadre professionistiche lombarde che si sono distinte nella stagione appena conclusa Inter, Atalanta, Como, Mantova e Alcione Milano sono intervenuti tra gli altri il vicepresidente della giunta Marco Alparone e il presidente del consiglio regionale Federico Romani riconosciamo un percorso un percorso fatto di sacrificio, di impegno, di programmazione ma anche di tanto talento e quindi è bello poter riconoscere a queste squadre di calcio che cosa? l'insegnamento dei valori dello sporco soprattutto per i nostri giovani celebriamo sicuramente grandi squadre blasonate dall'Inter all'Atalanta il successo del Como, il successo del Mantova nel mio cuore da milanese è sicuramente il percorso dell'Alcione l'Alcione è una squadra che ha sempre fatto del settore giovanile un percorso di crescita dei ragazzi milanesi e quindi per la prima volta ha una squadra che gioca a livello professionistico però la sua storia è una storia fatta di educazione allo sport una storia di giovani un'annata straordinaria quella delle squadre lombarde che ha riportato sul tetto d'Italia ed Europa nel caso dell'Inter all'Atalanta ma non solo, anche l'Alcione, il Mantova, il Como rappresentando il calcio italiano come lombardo soprattutto come un grande esempio di quello che è il messaggio che vogliamo sempre veicolare sia quello dello sport come salute, come impegno, come passione, come regole della vita, come etica insomma tanti bellissimi valori oggi abbiamo anche premiato una tifosa speciale Lisa che sta facendo una importantissima battaglia contro un brutto male che speriamo possa superare con l'aiuto anche di tutte le istituzioni della ricerca e delle associazioni che come sempre sono una forza trainante qui in regione Lombardia L'Atalanta è stata naturalmente premiata per il successo in Europa League coronamento di un'altra stagione straordinaria per la società bergamasca c'era il direttore generale Umberto Marino Noi non dobbiamo dimenticare le nostre origini la nostra cultura del lavoro la volontà sempre di emergere di fare qualche cosa in più la concorrenza è tanta perché per una città come Bergamo confrontarsi con metropoli a livello nazionale e internazionale è motivo di stimolo per fare sempre qualcosa in più Sì, io dico sempre Bergamo-Atalanta Atalanta-Bergamo è un connubio non dico vincente ma è un connubio che funziona perché ci permette di portare avanti un progetto un'idea con coraggio e con grande volontà Partiamo dal vivaio questo vivaio, il settore giovanile è fondamentale poi cerchiamo di valorizzare quelli che sono i talenti nazionali e internazionali puntando su dei calciatori al di là dei nomi che possono dare un valore a questo club e ottenere altri risultati Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!